Non mi fai frullare un po' senza queste mingafuttinte, proprio. Non voglio questo invece, così non frulliamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Grazie. 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 ma c'è sicuro che di qua ci sta già passato, io me la metterò, si, ma la strada non c'è, no vabbè prima se me la metteranno mai a posto, perché anche me ne prega di metterla a posto, adesso qua ci vengono i cacciatori, questa è una particolare di caccia, io non c'è, no vabbè, io sento il suo odore, il suo odore è una putta, non è putta, è un canto, il suo odore è un po' una cosa che fa attacolto mai, fa attacolto riva a Roma, C'è il cartello, non mi scordo dove c'è scritto, però è sempre quello, il scherzo lo dice stata, l'altra parte probabilmente era scritto all'inizio della strada, con l'arena scorciatoia e poi di qua invece c'è strada, forse la sua punto qua che c'era? Non è che fermarmi, forse non è proprio dei più comodi. Non lo so come, queste pomeline, non abbiamo trovato altre, alcune sono anche già più rosse, ma il fatto che non so cosa sono, quindi se non si sa che cosa sono, facciamo vedere. Sì, sì, soltamente sì. Le certe robe sono delle cose che sono a prendere. Ma magari invece sono... Sicuramente hanno però, giustamente come si dice, se non so cosa sono, la cosa dov'è. Ma no, ci dovrebbe qualcuno che ti dice, sono... Sì, lo fa vedere. Ma qualcuno che te lo fa vedere però. Sì, sono che ti dice, sono buoni da mangiare. Io pure si dice, sì, sì, quelle robe lì, perché poi le potresti confonderle comunque non spiegandoti bene magari, con qualcos'altro, ma sai che è? No, perché poi vedi una macchina così... Sì, ma bisogna vedere... Da che parte sta vita. Di certo non è arrivata di qui. Eh, c'è arrivata di qua. Eh, cosa fa fare? No, mi preoccupo, tu te la ricordavi questa strada, come era? Eh, ma tutte le volte cambia, eh. Cioè, non è che sia sempre così. Questi sono i cani. E questa, per più, c'è acqua da una vita. Eh, eh. Cos'era quell'Alfa che abbiamo trovato, il funcio di Fugio Matrompia. Eh, qua è un po' meglio scendere, salire, non lo so. Poi sai, noi ci creiamo dei problemi, poi trovi delle macchine che vanno avanti e indietro. Ovviamente... Eh... Ehi! Tu sei lì? Ah, perché ti stanno seguendo? Sopra? Eh, sì. Basta lupo! Il discorso è che cos'è? Ma non ci sono fiuso, andati via! Basta lupo, dai! Che ci puoi venire con una macchina qua? Spendere su un po' i lavori. Perché magari c'è un altro... E se è rotta! Oh! E se c'è un po' i lavori... Basta lungo? Che è spesso? E beh, non è spesso. Cora. Il prezzo brutto dovrebbe essere passato perché comunque ci sale, siccome ci sale chiaramente non so se la usano o che cazzo, tutte le volte che passiamo è sempre diversa. Poi ci sono anche i Ribes, dovrebbero essere questi, ma io non mi fido perché ci sono le bacche, eh, i Ribes rossi. Ah, quelli con le... Eh, ma ci sono le... C'è il Sambuco anche per fare il cuore, ma c'è l'altra che ha ombrello anche quella che è la bella donna. Ma quel cazzo che a me è bella di spinta, tu vedi? Tu a casa di uno? No, no, ok. Ho sotto il buco. Eh, non so, vedi, questo dovrebbe essere un buco, però come fai a essere certo, le economie, bacche che ti fai crepare? Oh, ma... Ti sto sempre alliello, cioè lo sai, perché c'è un libro, lo hai studiato, hai guardato, eccetera, e allora è un discorso, ma così no. E' un po' così, ma non è un po' così. E' un po' anche questo, ci va sì, mi distranno in quel po' il giro. E' un po' così. 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 La destra è questa, noi siamo andati a destra e c'è una salita, perché c'è ancora il punto di salire. All'ci. 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 All'ci.